Lo spaccio di droga, soprattutto cocaina, prosegue florido specialmente lungo la costa e quanto si legge nella relazione annuale della Direzione Nazionale Antimafia con riferimento alla presenza della criminalità organizzata in Abruzzo. La droga arriva prevalentemente dalla campagna e i fornitori sono immancabilmente legati alla camorra, dice la relazione. Il ruolo degli albanesi e delle famiglie di etnia Roma appare essere quello dei cavalli e degli spacciatori al minuto sul territorio, mentre il vero mercato e i grossi guadagni sono ormai appannaggio dei grossissi della camorra che da vari anni, non solo per piazzare la droga, hanno trovato nella vicina regione spazio per i loro loschi traffici. Non può dirsi, continua la relazione, che la camorra abbia soppiantato gli albanesi nel settore ma piuttosto che li abbia inglobati, facendone degli alleati con i quali cooperare sul territorio e lasciando loro degli spazi di autonomia limitati. In effetti non si sono registrate introduzioni di grosse partite di droga nei porti abruzzesi, dice ancora la direzione nazionale antimafia. Gli albanesi arrivano in Abruzzo per spacciare la droga introdotta in Veneto e in Puglia e la regione rappresenta uno dei punti finali del mercato e non il punto di partenza.